Suoranna Moni Alfieri, legale rappresentante dell'Istituto di Cultura e Lingue Marcelline, ha incarichi di esperta presso i tavoli sulle scuole paritarie del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, è autrice di numerose pubblicazioni sul Sistema Nazionale di Istruzione, è stata ispiratrice e co-autrice del saggio La Buona Scuola Pubblica per Tutti, statale e paritaria, una laurea in giurisprudenza, una laurea in economia. Lei come si presenterebbe? Sono una persona estremamente appassionata di scuola, ma in modo più diretto della libertà, della garanzia, della libertà di scelta da restituire alle famiglie. Ecco, ho dedicato e dedico tutta la mia vita proprio affinché possano essere garantiti i diritti che vengono riconosciuti, altrimenti non avrebbe senso riconoscerli. Con lei faremo un viaggio all'interno del Sistema Nazionale di Istruzione. Partiamo da una frase, trasformare i sudditi in cittadini è un miracolo che solo la scuola può compiere, lo diceva Piero Calamandrei. Sì, Piero Calamandrei, abbiamo ripreso i suoi scritti proprio in occasione dell'ultimo saggio con Dario Antiseri, tra i politici sulla libertà di scuola. Effettivamente è questo. La scuola permette e dà ai cittadini la possibilità di maturare un pensiero critico affinché la società possa essere cambiata dal di dentro in modo costruttivo. Solo la scuola è in grado di trasformare le persone da sudditi, ossequiosi ed obbedienti in un modo servile in cittadini, attori della società. Lei è considerata un po' la paladina dell'uguaglianza tra scuola statale e scuola paritaria. Si batte fortemente per questa parità perché sostiene che solo in questo modo viene garantita la libertà di scelta educativa del nostro Paese. La domanda potrebbe essere, in Italia c'è già una legge che garantisce questo, che è la legge 6.2 del 2000, che include nel sistema scuola pubblica sia le scuole statali che le scuole paritarie. In particolare, leggo dal testo, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Se c'è già una legge, perché battersi per questa parità? Perché, come dicevo in apertura, non è sufficiente riconoscere un diritto se poi non viene garantito. In Italia, purtroppo, c'è questa gravissima anomalia. Il diritto alla libertà di scelta educativa e al pluralismo educativo sono dei diritti riconosciuti dalla Costituzione italiana nel pieno rispetto della dichiarazione addirittura universale dei diritti dell'uomo. Parliamo dell'articolo 26, dove la libertà di scelta educativa in capo alle famiglie, dei patti internazionali. Eppure siamo la più grave eccezione in Europa. Siamo l'unico paese dove, di fatto, la famiglia, nel momento in cui esercita il proprio diritto e la libertà di scelta educativa, se va nella scuola statale, apparentemente non paga nulla, in realtà costa 10.000 euro un allievo della scuola statale. Se sceglie la scuola paritaria, anche essa fa parte integrante del sistema scolastico nazionale di istruzione, deve pagare due volte con retta. Quindi in Italia c'è un problema di discriminazione. La famiglia, il povero, sono discriminati nell'esercizio del loro diritto e la libertà di scelta educativa. Il vincolo è un vincolo economico, perché né la legge 62 del 2000 né quelle successive sono state in grado di dare una risposta a chi paga. E quindi i cittadini che esercitano il loro diritto in Italia pagano due volte. Chi dovrebbe pagare invece? Non dovrebbe pagare più nessuno, perché i cittadini hanno già pagato e hanno pagato con le tasse. Quindi se l'Italia, come di fatto garantisce nel diretto, riconosce in capa alla famiglia la possibilità di esercitare liberamente il proprio diritto all'educazione dei figli, e questa libertà si gioca in un pluralismo educativo composto da scuole pubbliche a gestione statale, da scuole pubbliche a gestione privata, paritaria, accreditate, riconosciute, una volta che la famiglia ha pagato le tasse dovrebbe poter scegliere in un sistema o nell'altro liberamente senza pagare due volte. Lei ha citato la Costituzione. La nostra Costituzione dice che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge deve assicurare ad esse piena libertà e loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. Forse l'obiezione è questa. Perché lo Stato dovrebbe sostenere e inglobare i costi delle paritarie? Esattamente. L'obiezione è legittima ed è anche giusta, condivisibile e condivisa dalla sottoscritta. Qui cominciamo due... Una premessa importante. Anzitutto qui non si tratta di dare fondi alle scuole paritarie. Da anni vado ripetendo che non si tratta di dare più fondi alle scuole paritarie o di toglierli alla scuola statale. Qui non è una lotta fra la scuola paritaria e la scuola statale. Il senza oneri per lo Stato, secondo elemento importante, si rifrisce all'istituire. Non è mai stata istituita, non è mai stata costruita, non è mai nata una scuola paritaria chiedendo oneri allo Stato. E ben che mai io mi sognerei in un momento di crisi costante di chiedere allo Stato di dare maggiori finanziamenti. E di fatto è proprio questo il problema. Qui non si chiede allo Stato di dare maggiori finanziamenti o di dare dei finanziamenti alla scuola paritaria. Qui si tratta di... o di maggiori oneri per lo Stato. Qui si tratta di dire la verità. Oggi lo Stato italiano non soltanto non ha oneri per le scuole paritarie, ma trova nelle scuole paritarie il primo finanziatore. Perché il milione di studenti che frequenta la scuola paritaria fa risparmiare allo Stato italiano oggi 6 miliardi di euro. Qualsiasi ascoltatore si potrebbe fare questo conto. Questo milione di studenti che non frequenta la scuola statale sappiamo che la scuola statale costerebbe 10 mila euro per allievo. Quanto risparmia? Quindi è già chiaro, senza alcuna ombra di dubbio, che le scuole paritarie non solo fanno risparmiare, ma sono il primo finanziatore. A fronte della chiusura di queste scuole paritarie lo Stato italiano spenderebbe molto di più. E quindi di una spesa pubblica fuori controllo. Il secondo elemento importante è che qui non si tratta di dare maggiori danari alle scuole o di spendere di più? Si tratta di spendere meglio. Le famiglie hanno già pagato le tasse. La domanda che rivolgiamo al governo, anche attuale come a quelli precedenti, è perché se il cittadino italiano ha già pagato le tasse, come nella sanità, non può scegliere dove educare i propri figli. Che tu Stato, mi dici, essere riconosciuto nella scuola pubblica statale paritaria, allora occorrerebbe un atto di coerenza. Bisognerebbe dire che esiste solo la scuola pubblica statale unica monopolio di regime. Quindi altrimenti c'è una contraddizione in termini. Qui si tratta semplicemente di permettere alle famiglie che hanno già pagato le tasse di poter esercitare liberamente il proprio diritto a costo zero. È stato ampiamente dimostrato. Forse il problema potrebbe anche essere legato ad un retaggio ideologico, mi viene da pensare, perché non si supera questo scoglio. L'Italia è infatti la più grave eccezione in Europa, anche se l'Italia arriva molto prima dell'Europa. Ricordiamo che la Costituzione italiana è del 1948. L'Europa arriverà soltanto nella risoluzione del 1984, quella sulla libertà di insegnamento e quella del 2012, sulla libertà di scelta educativa, a dire quei principi che la nostra Costituzione dice. In Italia in realtà paghiamo un prezzo molto alto di una cultura tutta italiana, di una non conoscenza sulla quale spesso si costruisce tanto a livello ideologico. Ma poi ricorderemo nell'unità d'Italia, quando l'Italia si volle unire, che cosa si pensò? Lo Stato pensò che avvocando a sé l'istruzione avrebbe unificato l'Italia e sanato l'Italia da un alfabetismo. Quindi si innescò quella contrapposizione fra lo Stato del Vaticano e lo Stato italiano. Quindi ancora oggi, nonostante siano passati tanti decenni, si considera la scuola paritaria come la scuola privata dei ricchi per i ricchi o peggio la scuola dei preti e delle suore. In realtà qui il problema è ben altro. E se la famiglia italiana, all'essenza dell'articolo 30 della Costituzione, ha il diritto e dovere di educare i propri figli, non c'è dovere se non posso esercitarlo liberamente. E quindi è o non è? La famiglia ha o non ha il diritto e la libertà di scelta educativa? E se ce l'ha, come lo gioca questo diritto se non in un pluralismo educativo? E se questa Italia riconosce il pluralismo educativo, perché non lo garantisce? In realtà applica una discriminazione. E di fatti poi vediamo che il sistema scolastico italiano risulta il più regionalista e classista discriminatore in Europa. Regionalista perché arriviamo in un sistema scolastico costosissimo che spende tanti danari pubblici in modo disarmonico arriva agli ultimi posti Ocsepisa. Chi arriva agli ultimi posti Ocsepisa? La Sicilia e la Calabria, la Lombardia e il Veneto molto al di sopra. Quindi vedete che l'unificazione italiana non è avvenuta. C'è un forte regionalismo. È discriminatorio perché il bambino disabile, nel momento in cui sceglie una scuola statale, ricordiamoci, mancano 50.000 docenti di sostegno all'appello, non è il docente di sostegno. Se sceglie quella paritaria lo deve pagare due volte perché lo Stato non se ne occupa più. Ed è classista perché in realtà soltanto il ricco può scegliere in Italia. Il povero che ha pagato le tasse non può scegliere. Non è quindi una questione di dare più soldi alle paritarie o di toglierli alla statale. È riconosciuto che un allievo della scuola statale costa 10.000 euro all'anno, che questo sistema ha prodotto in Italia 1.800 posti vacanti di direzione didattica, 48.000 cattedre vuote, 50.000 docenti di sostegno che mancano, un precariato abnorme, una scuola che è stata considerata per anni un ammortizzatore sociale. C'è da tutto ciò che ci guadagna. Come potremmo rompere questo meccanismo? Garantire alla famiglia, costo zero, di poter scegliere fra una buona scuola pubblica statale e paritaria, innescare una sana concorrenza fra queste scuole, innalzando il livello di qualità sotto lo sguardo garante dello Stato. Tutto ciò in Europa avviene tranne in Italia. E quindi resta un po' l'amara sensazione che quando una scuola muore, come diceva Italo Calvino, chi uccide una scuola non lo fa mai per questioni economiche, ma perché della scuola ha tutto da perderci. C'è un concetto che riassume questa sua visione, che potrebbe effettivamente, è un concetto estremamente interessante, che potrebbe garantire un'effettiva parità tra scuola statale e scuola paritaria, che è il costo standard. La sua applicazione, leggo, sarebbe senza oneri e su scala nazionale produrrebbe un risparmio di circa 2 miliardi e mezzo di euro per lo Stato. Risparmio che si può quantificare a seconda dei parametri presi in esame. Purtuttavia resta un'operazione a costo zero. Soldi che potrebbero essere investiti diversamente. Ce lo spiega questo costo standard? Che cos'è? Sì, questo costo standard è stato elaborato insieme ad altri due ricercatori, Marco Grumo e Mare Chiara Parola, nel libro Il saggio è il diritto di apprendere nove linee di investimento, edito nel 2015 dalla Gia Pichelli. Noi che cosa andiamo a dire? Andiamo a dire come nella sanità. Nella sanità, quello che noi diciamo già avviene, nella sanità una persona in Italia può scegliere di essere curata in un ospedale pubblico gestito dallo Stato o in un ospedale pubblico privato accreditato, a costo zero, pagando semplicemente il ticket perché ha già pagato le tasse, grazie al DRG. Come è avvenuto nella sanità ciò? Ponendosi una domanda fondamentale. Quanto costa produrre una siringa? Non può costare in modo diverso in Puglia rispetto in Lombardia. Così nella scuola. Nella scuola la domanda che ci siamo posti è se il diritto già riconosce la libertà di scelta educativa dei genitori, il pluralismo educativo è riconosciuto. Come mai siamo ancora a porci questa questione? Perché manca la risposta economica. Cioè chi paga, l'avevo detto. Il costo standard dice quanto costa formare uno studente oggi in Italia? Noi sappiamo che la scuola statale costa 10.000 euro, ma costa chi? Ha le tasche dei cittadini, c'è le loro tasse. Ma la domanda è in un sistema scolastico efficiente ed efficace. Quanto costerebbe la formazione di uno studente? Noi siamo riusciti a dimostrare attraverso una serie di bilanci e di dati incrociati che un allievo della scuola dell'infanzia costerebbe dai 3.500 ai 3.700 euro, un allievo della scuola primaria 4.000 euro, fino a un allievo della scuola secondaria di secondo grado 5.500 euro. Quindi in media il costo di un allievo dovrebbe costare al sistema scolastico di istruzione 5.000 euro. Quindi se noi pensiamo ai 7 milioni di studenti che vanno nella scuola pubblica statale che costano 10.000 euro all'anno, pensate se tutti gli 8 milioni di studenti italiani venissero formati in un sistema scolastico efficiente ed efficace con 5.000 euro all'anno, quindi quanti danari lo Stato italiano risparmierebbe. E attraverso l'applicazione di un costo standard modulato per regioni, modulato per corsi scolastici, per anni, il risparmio si colloca fino addirittura a 17 miliardi di euro all'anno. Quindi l'ipotesi è di 2,8 miliardi di euro fino a 17 miliardi. Quindi in questo studio noi abbiamo voluto dimostrare peraltro un ultimo studio degli economisti da Vinci insieme alla società Deloitte hanno dimostrato con pubblicazione in settembre sul Corriere Proprio della Sera che un allievo all'Istituto della Scuola Pubblica Statale costa 10.000 euro. Quindi è stato ampiamente dimostrato che con il costo standard, quindi non soltanto lo Stato italiano permetterebbe di apportare in un sistema scolastico le leve della libertà, della democrazia e del pluralismo ma addirittura risparmierebbe tantissimo quindi libererebbe tante risorse che oggi purtroppo nel sistema scolastico sono perse perché c'è un utilizzo sbagliato e inefficiente delle risorse. Quindi qui si tratta di fare degli tagli, no, si tratta di gestire meglio. Quando un sistema scolastico scappa alle leve della concorrenza, della valutazione, della meritocrazia sfugge anche la risorsa e quindi c'è uno spreco di risorse. Il costo standard dice non tagliamo le risorse ma impieghiamole meglio. I dati sulle scuole paritarie sono preoccupanti però. Sono tantissime le scuole che stanno chiudendo. Questo certo non è un bene per il nostro sistema scuola. Al di là delle ideologie, al di là delle contrapposizioni, lei ha detto oggi la scuola italiana è diventata classista perché i poveri non possono fare una scelta educativa in piena libertà, quello che diceva prima, no? Sì, sì, il problema è proprio questo. Perché la scuola italiana, e di questo noi dobbiamo farcene tutti carico, non è più un ascensore sociale. Nella scuola, prima, la scuola veniva considerata un ascensore sociale, il figlio dell'imprenditore poteva diventare operaio, poteva diventare imprenditore. Oggi non è più così. È un sistema, quindi, è un sistema di sbarramento all'ingresso. Qualcuno mi potrebbe dire ma per questo povero esiste già la scuola statale, perché dovrebbe andare in una scuola paritaria? E allora la domanda va rigirata è perché il povero non può scegliere? Un sistema che impedisce al povero di scegliere è un sistema sempre malato, è un sistema... Il monopolio, perché noi temiamo così tanto i regimi di monopolio in tutte le realtà, ma non le temiamo nella scuola. Quello che sta avvenendo è il fatto che a settembre non abbiano aperto 300 istituti di scuola paritaria o che negli ultimi anni si siano persi 200.000 alunni. In realtà, che cosa sta dicendo? Che l'Italia si sta, oltre a distruggere un proprio patrimonio culturale enorme, in realtà sta anche abbattendo il pluralismo, avviandosi verso un sistema monopolistico e quindi arrivare a un sistema di monopolio solo gestito dalla scuola statale, dove la scuola paritaria privata esisterà soltanto quella dal 10.000 euro diretta in su. Quindi che cosa avrà prodotto? Un sistema elitario. E quindi è sempre preoccupante. Questo non può non preoccuparci. Vedo che ha un libro in mano, una nuova pubblicazione. Sì, questo è un libro scritto con Dario Antisere, un filosofo che non ha bisogno di presentazione, la lettera politica. Abbiamo tentato, proprio con questa lettera politica sulla libertà di scuola, edito dalla Rubettino, di riprendere gli scritti di Salvemini, di Calamandrei, per ridimostrare nuovamente quanto il pluralismo educativo, cosa che l'Europa ha ben capito, fa bene ad una nazione, quanto il monopolio in realtà rende tutti molto più poveri. E noi con Dario Antisere abbiamo dimostrato quanto avviene in Europa, dimostriamo proprio con casi concreti, come in Francia, la libertà di scelta educativa, sia possibile, come sia possibile in Svezia, in Norvegia, come dimostriamo paese per paese, attraverso un'analisi precisa, tutti i paesi europei hanno garantito la libertà di scelta, utilizzando strumenti variegati, dal pagare docenti, dall'applicare il costo standard, e dimostriamo come in questi paesi europei il sistema scolastico sia di maggiore qualità rispetto a quello italiano, come si spendano meglio le risorse dei cittadini, e si spendano anche dei danari tolti alla morsa dello spreco, e ripresentiamo in Italia l'unica soluzione che possa garantire in Italia il pluralismo educativo, rimane il costo standard di sostenibilità. Quindi quell'anello mancante in Italia si dimostra sempre continuamente essere questo aspetto economico. E' preoccupante come questa cosa sia da più parti oramai non considerata e come si assista quasi ignari che la compromissione del pluralismo educativo in realtà è come dire, qualcosa che farà del male non tanto alle scuole paritarie dei preti e delle suore quanto alla scuola statale stessa che non avrà la leva di miglioramento ma soprattutto ai cittadini. I care è il messaggio che campeggia sulla scuola, sulla parete della scuola di Barbiana, l'esperienza educativa sperimentale che fu avviata da Don Milani. I care, come diceva lo stesso Don Milani, il motto della migliore gioventù americana significa amistà a cuore, avere a cuore tutti, pensando alla scuola e all'esperienza di Don Milani, tutti gli alunni, per portarli tutti nessuno escluso verso il successo formativo e a questo che ambite. Sì, assolutamente, quello che io vorrei anche da questo momento di cui ringrazio lei, la cortesia che mi usa, è dire ai cittadini che il motto di Don Milani deve essere quanto mai attuale. Io non ho figli, quindi combatto una battaglia per figli di altri, combattere per la libertà di scelta educativa dei genitori, per la libertà di scelta educativa dei suoi figli, dei suoi nipoti, vuol dire essere delle persone libere, capaci di spendersi per una libertà che non appartiene direttamente. Oggi in Italia a volte credo che a noi manchi quel senso civico, quel pensare che da un punto di vista ecclesiale, politico, culturale, sociale, noi possiamo dire la nostra, possiamo cambiare la società, possiamo incidere in un modo positivo nella società. Detto concretamente, se in Italia dal 1948 ad oggi non abbiamo garantito la libertà di scelta educativa dei genitori, in realtà chi è rimasto più impoverito? Un po' tutti noi. Quindi, se noi vogliamo davvero per i nostri figli, i nipoti e per le generazioni in futuro una società migliore, non possiamo non pensare che passi dall'esercizio libero della propria responsabilità educativa, perché vede, aver delegittimato il ruolo dei docenti, aver delegittimato il ruolo della famiglia, oggi ha portato a delle anomalie che poi noi cerchiamo di trattare come fenomeni, cerchiamo anche di curare che sono dalla violenza dei genitori, dal coinvolgere o no i genitori nella scuola, è giusto o non è giusto? Oppure il bullismo o non bullismo? Quindi noi rischiamo se non riusciamo a porre in fila le questioni ad avere quei fenomeni che poi dobbiamo gestire e il problema è sempre quello, riusciamo a porre in fila le questioni, a rimettere al centro dei problemi il cuore della questione e il cuore della questione qual è? Non è scuola paritaria sì, scuola paritaria no scuola statale sì scuola statale no e la famiglia avendo la responsabilità educativa deve poterla esercitare liberamente a costo zero fra una scuola pubblica statale e paritaria e questo risolverebbe molti dei problemi perché aver aperto quando noi diciamo ai chi era ad uno studente ma questo ci crede ci crede quando in realtà noi vediamo che invece la scuola è sempre oggetto di politiche dal fieto corto di politiche miopi da un collocamento di un ammortizzatore sociale costante dove il precariato la fa sempre da padrona dove l'unica nostra preoccupazione è collocare dei posti a persone che abbiamo promesso cattedre inesistenti quindi c'è ci sono sempre una serie di interessi dove in realtà difficilmente oggi noi si riesce a dire che al cuore di queste logiche scolastiche c'è proprio lo studente io ho sempre in mente una frase che mi disse un esponente francese in un incontro di un po' di anni fa quando in un incontro pubblico si disse ma com'è che la laica Francia è riuscita a garantire la libertà di scelta educativa che in Italia non si riesce a garantire insomma la laica Francia è una Francia un paese veramente laico un paese che non favorisce la cultura confessionale ma neanche l'ostacola e allora questo francese esponente francese il governo francese mi disse perché in realtà nella cultura francese si è molto più uniti rispetto all'Italia ecco noi in Italia siamo molto parcializzati ci perdiamo in mille rivoli e mentre ci perdiamo in mille rivoli ci manca la visione di insieme grazie Sormonia speriamo allora di recuperarla questa visione di insieme I care lo diciamo anche noi grazie per essere stata qui grazie per aver risposto alle nostre domande grazie grazie